Sergio Silva vittoria 7 a 2, vendicata sostanzialmente la sconfitta dell'andata contro il Breganze. Una partita insomma con tanti problemi della tua squadra perché fuori Francesco Banini, fuori Oscar Bonarelli, fuori Mattia Maldini, insomma tante assenze. Sì, guarda, comincio per dire che non abbiamo vendicato niente perché noi non volevamo vendicarsi della sconfitta dell'andata perché è stata giusta, abbiamo giocato veramente male e si è perso. Oggi volevamo vincere perché volevamo rimanere dove siamo, la gente, la società si merita, i tifosi se lo meritano, i ragazzi se lo meritano più di tutti, anche se sapevamo che non era semplice perché sono partite che non sono mai semplici. arriviamo da un periodo complicato, sono due settimane che portiamo su questi ragazzi che c'erano oggi con noi e che io ho deciso di far provare questo tipo di partite e è giusto anche dargli questo tipo di premio perché noi contiamo su di loro e ci stanno dando una mano insieme a quelli che sono rimasti, di portare avanti e fare bene. Penso che stiamo facendo bene, stiamo bene, siamo una bella squadra compatta e lotteremo anche per quelli che non ci sono. Le condizioni appunto di Bonarelli e Maldini non sono ottimali però verranno in trasferta in Portogallo perché il prossimo match è contro il Murces nel ritorno della World Skate Europe. Sì, è una competizione a cui noi ci teniamo molto. Penso che anche nelle condizioni che siamo abbiamo le nostre possibilità di andare in Portogallo e passare il turno. Difficile ma non è impossibile. I ragazzi sono straordinari, lo so che lo saranno anche sabato e sicuramente ci proveremo perché vogliamo arrivare alla Final Four.